Ciao ciao raga, eccoci al video recensione del film giallo per soprattutto Mauro e il Diablo, oh finalmente, a cui mando un bacio grazie di seguirmi. Allora, questo libro l'ho letto appositamente per lui se volete sentirlo bene, se no lasciateci soli, parleremo tra me e lui va bene, tra me e lui, lasciate prendere il mio italiano dunque, vediamo, il libro, pronti, si intitola Gente Letale di John Locke praticamente John Locke ha scritto sette romanzi, io non lo sapevo, non mi ha avvisato di questa serie di Donovan Creed Donovan Creed è il nome del protagonista del libro e ne ha scritto, se ne ha fatti sette, io voglio leggere anche gli altri perché ti giuro Mauro che questo è stato favoloso, fantastico, meraviglioso pimpimpapapà, non so, con quali altri aggettivi veramente lo devi leggere, è una bomba allora, all'inizio, mentre lo leggevo ti pensavano, ma dicevo cosa gli dirò poi e intanto lo leggevo e gli dice, dopo un po' di pagine dicevo questo libro qua è fuori di testa, cioè mi sta prendendo per, cioè mi sembrava stranissimo, sai tipo quei film di David Lynch, non so, i misteri di Twin Peaks quelle cose assurde, boh, ho detto ma cosa sto leggendo, non è mica normale e invece poi ho detto smettila di pensare così pensa, cioè che sia tutto vero, non assurdo come sembrava all'inizio, non so come dirti è molto 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 bello ora ti leggo vi leggo dai, per tutti praticamente all'inizio c'è un prologo inizia con una famiglia madre, padre e due gemelline purtroppo avvampa subito un incendio e praticamente la madre e il padre si trovano in taverna mentre le due bambine sono di sopra che stanno dormendo quindi l'incendio è talmente forte che devono pensare in pochi secondi che cosa fare perché vogliono salvare le bambine ovviamente il padre è il primo che parte per andare a salvarle per le scale la madre pensa io cosa ah lei era incaricata di chiamare il 911 americano quindi lo chiama lo chiama ma dopo pensa adesso cosa posso fare d'altro mentre l'incendio avvampa proprio in una maniera pazzesca le viene in mente di andare nel bagno di bagnare degli asciugamani di chiamare il marito e di buttarglieli su ok il marito li afferra e poi non si vedrà più perché l'incendio è talmente forte che non riuscirà a scendere lei muore giù lui cosa fa prende le bambine le mette per terra sotto il letto mette sopra alle bambine l'asciugamano intriso d'acqua e lui si butta sopra praticamente quando arriva il 911 ma 4 minuti dopo trovano lui già morto mentre le bambine sembrano salve e cosa succede? che le portano in ospedale purtroppo una delle due muore si salva soltanto Eddie scritto A-D-E Eddie ok questo è il prologo che comunque servirà ovviamente per capire tutto il resto del libro allora in questo libro si parla di un killer Donovan Creed è un killer si spaccia per un agente CIA e in effetti lavora anche per il governo americano cioè fa fuori delle persone che al governo americano stanno qui però nel tempo morto diciamo e fa anche il killer di professione per chi per chiunque glielo chieda soprattutto per la malavita e come protagonisti adesso vi elenco i protagonisti gli altri protagonisti del libro allora Sal Bonadello è un boss della mafia Joe De Meo un altro boss il suo capo della CIA si chiama Darwin poi il suo amico più intimo veramente amico 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 Augustus Queen che è sfregiato il volto poi c'è il protagonista forse più strano che si chiama Victor è un nano su una sede a rotelle che ha tutte le cose elettroniche cioè le cose più più sofisticate nell'ultimo momento perché ha avuto dei problemi nella nascita però è diventato molto ricco perché comunque anche lui è della malavita e quindi si può permettere questa sede a rotelle con tutti gli aggeggini c'è computer vede tutto cioè delle cose assurde poi c'è come altri protagonisti Janet che è l'ex moglie del killer di Donovan e poi c'è allora l'ex moglie Janet si innamora di un tizio che si chiama Ken Chapman l'ex moglie di questo di Ken Chapman si chiama Kathleen Kathleen non si va mica innamorare di Donovan ma quando si chiamano i casi della vita è veramente stranissimo altro protagonista altra protagonista Kelly o Kelly sua aiutante killer bionda una macchina da guerra raga mi inizia allora la trama è questa Victor vuole uccidere Monica perché suo marito l'ha salvato allora il marito di Monica chi è? è un dottore praticamente è stata colpa sua se Victor è nato con questi problemi perché l'hanno dimenticato è nato con dei problemi l'hanno dimenticato su un ascensore dentro un ascensore da solo invece di andare ad operarlo l'hanno dimenticato lì poi l'hanno operato e gli hanno fatto altri danni proprio il chirurgo è stato proprio un macellaio diciamo e quindi lui si ritrova sulla sedia a rotelle lui quindi vorrebbe anzi fa rapire Monica questo è il suo piano Victor fa rapire Monica da Donovan e Kelly lui fa l'iniezione cioè Donovan e la buttano dal camper cioè ne fa un'iniezione di un veleno sono su un camper e la buttano giù poi distruggono il camper lo vedono lo vedono distruggersi il campo perché lo fanno come si dice bruciare ma non hanno visto morire la ragazza vabbè e vanno via Victor pensate addirittura per quello che mi sembrava assurdo comunque questo Victor ha fatto dirottare un satellite spia ebbene si addirittura ha fatto dirottare appunto questo satellite per riprendere loro due Donovan e Kelly mentre hanno rapito Monica ma vi rendete conto boh quindi qualcuno deve aver salvato Monica per Victor ok allora Victor dice a Donovan e alla sua amica killer di rapire Monica e loro lo fanno e la la uccidono diciamo le fanno questa eminiazione mortale e la buttano giù del camper invece invece questo Victor non la vuole morta però vuole che loro credano sia morta con questo satellite spia girato vedono quando l'hanno buttata giù per andare a prenderla perché devono farle un'iniezione antidoto al veleno che bisogna fare entro un tot di tempo per non farla morire ma vabbè avvocato l'avvocato dei coniugi allora adesso si riprende quella storia dell'inizio del dell'incendio i coniugi avevano sottoscritto una polizza assicurativa in caso di morte ma a chi a l'avvocato di un malavitoso Gio De Meo questo avvocato insomma aveva fatto perché loro i marito e moglie avevano vinto una lotteria tanti soldi e quindi figuriamoci la malavita l'aveva saputo e quindi hanno mandato questo avvocato tutto vestito bene adesso ci penso io datemi i vostri soldi vinti che me li metto io e poi vedrete che tra molti anni le solite cose e quindi questo Gio De Meo siccome i milioni di dollari erano tanti vuole rubargli questi soldi addirittura cosa fa allora questo Gio De Meo è lui che ha piccato il fuoco che poi Donovan scopre e non l'hanno scoperto i pompieri perché perché Gio De Meo compra anche i pompieri per non parlare perché ovviamente i vigili del fuoco capiscono e il loro lavoro devono sapere capire da dove parte un incendio se è doloso oppure no quindi lo capiscono solo che sono stati comprati da questo qui quindi non dicono niente invece Donovan capisce tutto Gio De Meo sempre il boss manda i sicari in un ristorante per uccidere Donovan ma qui c'è una carneficina da parte di Donovan cioè dovete ma dovete proprio leggerlo perché è troppo forte e litiga con Kathleen Kathleen era quella ragazza di cui si è innamorato lui era un'ex moglie si è innamorato di questa Kathleen che guarda caso è l'ex della sua ex moglie ma è tutta una cosa complicata ma ma si capisce molto bene allora quindi lui uccide con dei metodi ma veramente le ha sognate di notte secondo me e litiga con Kathleen ovviamente Kathleen si spaventa moltissimo perché lei è una donna normalissima molto carina bionda e tutto molto dolce si no lei è innamorata veramente di Donovan però si spaventa cioè la porti in un ristorante vedi senti le pistole sparare non so se avevano anche litra che cosa comunque non è molto bello diciamocelo vabbè allora un'altra cosa strana che fanno questo killer e la sua amica Kelly stanno cercando una ragazza che faccia da sosia a Kelly cioè la sua amica killer cioè io ho capito così cercano dei sosia per metterli in certe situazioni particolari quando uccidono qualcuno così almeno sembra che sia stato quella persona quindi questo sosia questo sosia poi loro lo uccidono cercano appunto una ragazza che assomiglia a Kelly e lo trovano in Genin cosa succede? mentre sono nella stanza insieme Genin e Donovan a fare bene o certo giocare a Monopoli lei mette una bomba questa bomba Donovan naturalmente riesce manda via la ragazza ma riesce a capire ripensando a lei che era entrata con un walkman ma è uscita senza e allora gli viene un flash e dice ma dove l'avrà messo? gira per le stanze insomma riesce a capire che comunque gli viene questo dubbio che abbia messo una bomba la bomba esplode lui è fuori la bomba esplode e purtroppo muoiono ma veramente un sacco di persone vabbè quindi si viene a sapere capiamo nel libro che questa ragazza era di De Meo quale relazione c'è tra De Meo e Victor questo bisogna scoprire De Meo il boss e Victor il nano sulla sedia a rotelle Lou è un aiutante sempre di Donovan nella CIA e sono amici insomma invece il suo amico si chiama Augustus Queen che è suo amico e rimane cioè proprio dall'inizio alla fine del libro ma Lou è sapete quell'esperto di computer che vi trovano qualsiasi cosa presente passato futuro cioè di tutto questo Lou trova la storia di Victor e che cosa si viene a sapere appunto quello che vi ho detto prima e i miei appunti si fermano qui c'è scritto che Victor è stato conciato così dal marito di Monica che appunto come vi dicevo era il chirurgo che non ha saputo curarlo bene alla nascita quindi questa è la trama ma proprio all'acqua di rose perché poi non è che bisogna scoprire un vero colpevole ma bisogna scoprire che relazione c'è tra Demeo e Victor e delle altre cose delle altre come si dice delle altre scene molto particolari tra Donovan comunque e Kathleen eh dovete dovete leggerlo per sapere se alla fine stanno insieme o pure no eh eh no 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 questo di questo non vi dirò assolutamente la fine perché lo dovete leggere ehm comunque è anche durante lo svolgimento della trama è adrenalinico veramente vi sembrerà un po' assurdo con questo nano sulla sede rotelle che appunto dirotta un satellite spia io non so quanto sia possibile una cosa del genere eh si vede che in America non lo so o è tutto inventato e non si potrebbe mai comunque ve lo consiglio caldamente perché è veramente un bel thriller con delle belle scene d'azione e non dico un colpo di scena però ehm scritto molto molto bene scorre via che è una magnificenza l'ho letto praticamente in un giorno non so quante pagine sono vediamo sulle quasi 300 ma molto scorrevole e ve lo consiglio molto molto bello questo è proprio da leggere finalmente un bel libro e voglio però trovare anche tutti gli altri adesso ok raga ci vediamo al prossimo video ciao mando un bacione a tutti ciao ciao raga ciao